Volto nuovo tra le file del Bitonto annunciato nelle scorse settimane è il classe 2002 Silvio Corella Barese proveniente dalla primavera del Lecce. Innanzitutto ben arrivato Silvio a Bitonto, le prime impressioni in queste settimane di lavoro seppur non facili caratterizzate dal problema Covid in casa Bitonto? Sì sono arrivato in un momento un po' sfortunato anche perché ci sono state rinviate molte partite a causa del Covid, Bitonto mi sembra una bella piazza, mi trovo molto bene, i miei compagni mi hanno accolto molto bene, anche il mister e tutto lo staff. Questa per te è la prima esperienza con i grandi dopo anni di settore giovanili, quali differenze hai notato sia nel rapporto con i nuovi compagni di squadra ma anche con lo staff tecnico? Ovviamente ci sono più difficoltà tra i grandi, però il mister è molto bravo con noi under quindi non ce la fa notare molto la differenza, ci spiega tutto e ci fa capire tutte le cose che lui preferisce. Negli occhi dei tifosi del Bitonto ci sono Pierno e Gianfreda, protagonisti della scorsa stagione, tu ci hai giocato insieme nel settore giovanile, li conosci, pensi, speri di poter ripetere le gesta dei tuoi due predecessori? Spero di sì, spero di far bene come ha fatto Piero l'anno scorso, magari di lottare per la C, loro mi hanno molto parlato bene di questa di Bitonto e sono molto felice di essere venuto qui.